Un'ottima idea fermarsi qui, dottoressa. Come va con la tua fidanzata, Caloggiuri? Non tanto bene. E come mai? Ci siamo lasciati. In realtà mi ha lasciato lei. Una scema. Dice che l'ho trascurata troppo negli ultimi tempi. In effetti sono sempre qui a Matera. Neanche nel fine settimana torno a casa. Oddio, è colpa mia che ti faccio sempre lavorare. Ma no, no, no. Ma che dice? A me piace lavorare con lei. Sto imparando un sacco di cose. Anche a me piace. Dai, vedrai che ti rimetti con... Si chiamava Maria Luisa. Si chiama, Caloggiuri? E che è defunta? Certo, si chiama. Si chiama, certo.